Agrigento, città dalle potenzialità mai sfruttate. Tra i tanti emblemi che giustificano questa affermazione possiamo annoverare sicuramente il Parco della Dolorata. Nato come luogo di aggregazione e polmone verde per la città dei tempi, negli anni è sempre stato un monumento allo spreco del denaro pubblico e al degrado. Qualcosa però negli ultimi tempi pare essersi smossa. Con il ripristino dell'anfiteatro situato a sud del complesso e costato 115.000 euro, si è dato un importante segnale alla città, così come con i lavori di decespugliamento in corso, che serviranno a dare un'immagine positiva al parco in prospettiva dell'estate, stagione che prevede degli spettacoli e delle mostre proprio nell'area inaugurata lo scorso dicembre. Ma se è pur vero che Agrigento necessita di ben altre priorità, è vero anche che bisogna custodire al meglio i lavori già fatti, per evitare così atti vandalici e pseudo-artistici alla struttura. Ma l'area della Dolorata non si limita solo all'anfiteatro. Gli estesi spazi verdi e le zone mai sfruttate e degradate fanno tornare in mente le proposte avanzate dalle varie associazioni, che chiedevano all'amministrazione di dare in gestione al privato e al parco per cercare di sfruttarne al massimo le potenzialità. E stamane ci siamo recati sul luogo, accompagnati dagli attivisti di Agrigento Punto e a Capo. Provando ad accedere dalla via Finazia Gro, questa è la situazione che si è presentata ai nostri occhi. Erbaccio e ferri in bella mostra di intralciare uno degli accessi al parco della Dolorata, rendendone oltretutto pericoloso il transito. Ma poiché il parco, come detto, non si limita solo all'anfiteatro, abbiamo attenzionato l'area a sud del parco, dove è presente un altro piccolo anfiteatro. Un piccolo teatro degli orrori con vista sul mare, dove regna un assoluto degrado. Gli spogliotoi di questa struttura, ad esempio, mostrano la totale assenza di manutenzione, essendo stato questo posto totalmente dimenticato dalle amministrazioni passate. Ma i lavori di recupero dell'attuale amministrazione lasciano però intravedere un barlume di speranza per un luogo che potrebbe essere messo a disposizione degli agrigentini e non. E sul recupero del parco della Dolorata sono intervenuti due attivisti di agrigento punte a capo, Marcello Lascale e Mario Aversa, che al nostro microfono hanno spiegato quali potrebbero essere le potenzialità di questo luogo per troppo tempo dimenticato. Credo che dall'ultima inaugurazione che l'amministrazione ha fatto in questo parco abbiamo visto che è rimasto come era prima, senza nessuna novità, per quanto riguarda l'affidamento a terzi, qualche bando per poter... Io credo che in questo momento di crisi questa potrebbe essere un'opportunità per molti giovani. Perché non vare un bando a affidarlo ai giovani a gestire questa struttura? È bellissima, però vediamo oggi, un qualcosa di positivo c'è, che è quello di vedere iniziato a pulire qualche passaggio. Non vorrei che questo passaggio sia soltanto dove passano l'amministrazione a far vedere che tutto è pulito e del resto rimane tutto un degrado completamente. Secondo me è da pazzi non valorizzare questi luoghi favolosi, luoghi che potrebbero essere utilizzati da giovani, da tanti giovani disoccupati, agrigentini e non, anziché bighellonare per le strade, potrebbero trovare occupazione qua, formando delle cooperative, lasciando in affidamento a questi ragazzi, che potrebbero loro, quindi per l'amministrazione a costo zero, potrebbero occuparsi e dedicarsi alla rivalorizzazione di tutte queste spese enormi che sono state effettuate a carico dei cittadini, ma di cui non abbiamo nessun vantaggio fino ad oggi. Qua è da vent'anni almeno che questo posto è abbandonato ed è un luogo bellissimo, visto in prospettiva futura, in prospettiva di togliendo tutto questo degrado, queste tracce di abbandono. È un vero peccato vedere questi luoghi così lasciati all'ineda e all'abbandono. È uno schifo.